Questa è la storia di una pepita d'oro, che solo la sfortuna, invidiosa del suo talento, non ha fatto brillare. Giuseppe Rossi lo descrive in cinque passi. Fernando, il padre, che lo cresce in America e lo indirizza al calcio. Sir Alex Ferguson, che si accorge di quell'oro e lo culla, ci crede. Un sottomarino giallo, quel Villareal, che lo prende negli abissi e lo trasporta nell'Olimpo dei più grandi del mondo. Il quarto sono gli infortuni. Il quinto passo, però, sono le rinascite.